Delusione per la risposta che il sottosegretario alla difesa, Gioacchino Alfano, ha dato all'onorevole Gianni Melilla in merito al deposito militare di San Cosimo. Ad esprimerla Roberto Santilli e Mario Pizzola dell'Associazione Cittadini Valle Futura, la risposta del sottosegretario, affermano, è molto simile a quella che in passato hanno dato gli uomini di governo che lo hanno preceduto. Le rassicurazioni circa l'assenza di rischi per la salute dei cittadini non tengono conto del fatto che un deposito di esplosivi costituisce oggettivamente un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Inoltre, stante il segreto militare sulla struttura, non è possibile verificare se all'interno della stessa siano alloggiati anche materiali diversi da quelli ufficialmente ammessi. Ciò che non può essere in ogni caso condivisa proseguono è la dichiarata scelta di continuare a mantenere l'uso militare dell'area che contrasta sia con la decisione ormai già attuata di cancellare la presenza delle parti militari nel nostro territorio e sia con la chiara volontà espressa dai cittadini e dalle istituzioni a favore della riconversione del decreto militare in polo logistico della protezione civile. Desta molta sorpresa, affermano ancora Santilli e Pizzola, l'affermazione del sottosegretario Alfano, secondo cui la regione Abruzzo, dopo due anni dal voto unanime del Consiglio regionale per la riconversione, non avrebbe ancora trasmesso alcuna richiesta al governo nazionale. Se ciò dovesse essere confermato, sarebbe un fatto molto grave sul piano politico ed istituzionale, dicono i due rappresentanti dell'Associazione Cittadini Valle Futura. Pertanto riteniamo doveroso che da parte delle forze politiche presenti in Consiglio regionale, degli enti locali che unanimemente si sono espresse per la riconversione, vengano messe in atto le necessarie iniziative affinché la regione dia seguito agli impegni assunti, anche perché il sottosegretario Alfano non ha chiuso completamente alla possibilità della riconversione, ma ha affermato che essa non sussisti al momento. Il nostro comprensorio, penalizzato da una serie di spuolezioni e da una pesantissima crisi economica, non può che trarreggiovamento dalla riconversione della base di Monte San Cosimo, dicono Santilli e Pizzola. Questa vasta area di oltre 133 ettari, già infrastrutturata e ben collegata con l'autostrada e la ferrovia, ha tutti i requisiti per essere utilizzata per un servizio essenziale per i cittadini, qual è la protezione civile. Inoltre essa, per le molteplici attività connesse alla prevenzione, può anche dare uno specifico contributo alla ripresa economica ed occupazionale della valle. Auspichiamo, concludono, che i nostri rappresentanti istituzionali ai vari livelli facciano sentire chiaramente la loro voce in difesa dei legittimi diritti del nostro territorio e mettano in campo gli interventi finalizzati al conseguimento di questo importante obiettivo.